Allora è appena stato ufficializzato Rafinha È un giocatore dell'Inter, nuovo giocatore dell'Inter Però diciamola, innanzitutto salutiamo Sì, ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti Ciao ragazzi, ben ritrovati Siamo tornati con questo nuovo video proprio per palla... per parlare Per parlare, per parlare Ragazzi scusate ma... Vabbè, praticamente Rafinha è un giocatore dell'Inter Perlomeno fino a questa stagione Cinque mesi in prestito E poi c'è un'opzione di diritto Di diritto di riscatto ovviamente Perché l'Inter non poteva permettersi l'obbligo Quindi che cosa hanno fatto Per accontentare le richieste da entrambe le parti Hanno alzato la cifra un botto Esattamente, si mantiene il diritto di riscatto Quindi opzionale Anziché l'obbligo Però ad una cifra molto superiore A quella che era stata fattuta dai 20 milioni Ovvero si parla di 35 Veramente tantissimo Tanti tanti soldi Cioè secondo me questa è un'operazione Che l'Inter saprà già per certo Che durerà cinque mesi Cioè fino al termine del campionato A meno che il giocatore non esploda A meno che poi non si riveli È proprio l'acquisto top per eccellenza E allora lo vai a riscattare Perché magari vale almeno il doppio O se non vale il doppio Magari vale 10 o 15 milioni di euro in più Esatto È un giocatore che andrà a valere Sulla cinquantina dei milioni minimo Quindi Vogliamo dare un dato statistico Perché ho letto che sarebbe Qualora l'Inter veramente esercitasse L'opzione di riscatto Giusto Il giocatore della cantera Con cui il Barcellona ha fatto la miglior La miglior plus valenza Proprio plus valenza Ma diciamo proprio in termini di vendita 35 più 3 Sono 38 milioni La seconda Era stato pagato 25 più bonus ho letto addirittura Esatto Al Bayern Monaco E adesso attualmente Il record lo detiene Pedro Che il Chelsea ha acquistato per 27 più 3 Sì forse Pedro Se non ricordo male È stato pagato di più per il Barcellona Insomma Voglio sapere rapidamente a te che cosa ne pensi Come potrà tornare utile all'Inter Allora Anche perché ho letto che Gioao Mario sta per essere Forse viene dato in prestito al West Ham Insomma Everton forse ho letto Quindi praticamente arriva al posto De Rafinha Cioè Rafinha arriva al posto De Gioao Mario De Gioao Mario Perché comunque non si è rivelato Granché insomma Per quello che vuole Spalletti E poi stavo dicendo Vabbè comunque No abbiamo già parlato In un altro video ragazzi Sì è vero è vero Però vabbè non ha queste cifre Andatevelo a ricercare Esatto No però comunque abbiamo già parlato De Rafinha Quello che potrebbe fare nell'Inter Allora magari Magari lasciamo il link del video Ma tanto sicuramente Vi comparirà come consigliato Esatto Però sicuramente Sicuramente Te dico quello che penso io Tornerà particolarmente utile all'Inter Perché è un giocatore Che può fare praticamente Dieci ruoli Esatto Fatto salto però Che riesca a riprendere la condizione Perché comunque non gioca da aprile Se non sbaglio Il Barcellona l'ha fatto esordino In una partita Sì 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 È rientrato in una partita De Coppa del Re Nella quale ha ancora perso Se non mi sbaglio Sì mi parete sì Ma forse per rassicurare Proprio l'Inter Sulle condizioni del giocatore Quello è poco ma sicuro Quella infatti Quando ho visto che ha esordito Io ho detto sicuramente Veramente C'è qualcosa con l'Inter E probabilmente Infatti è così è stato Va bene Ci fate sapere che cosa ne pensate Nei commenti Ragazzi miei Secondo voi Rafinha L'Inter può essere Veramente un giocatore fondamentale Che può risollevare le sorti dell'Inter Visto come Ha chiuso il finale De stagione Tra virgolette Girone d'andata 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 Mamma mia oggi Vabbè lasciamo perdere Mi piace Commentate Condividete Iscrivete al canale Alla prossima con un nuovo video Complimenti all'Inter Che sta giudicata Un giocatore Un bel acquistino Perlomeno fino a fine anno Esatto E sulla carta insomma Sembra È artefice del proprio destino Se lo vogliono tenere Ci hanno tutto il diritto di farlo Ciao ragazzi Ciao ragazzi